Ciao a tutti, benvenuti al secondo appuntamento dedicato al tema dell'energia di Biennale Tecnologia. Allora, grazie intanto di essere qui alle dieci e mezza del sabato mattina. Bravi, facciamoci un applauso subito, bravi, bravi, bravi. Complimenti al Politecnico, complimenti alla Biennale Tecnologia. Allora, chi c'era ieri all'appuntamento? Ah, quindi abbiamo dei... a volte ritornano, come si suol dire. Bene, sono contenta. Io mi chiamo Cristina Tagliabue, sono la direttrice di un quotidiano online che si chiama La Svolta. è nato a gennaio, si occupa di ambiente, di diritti, di innovazione e sono stata chiamata per la prima volta a moderare i dibattiti dedicati all'energia di Biennale Tecnologia. Quindi sono molto contenta di essere qui tra di voi. Adesso vi presento i tre personaggi che abbiamo con noi oggi, ovvero i tre esperti personaggi che abbiamo qui tra di noi. Allora, abbiamo un collegamento in realtà che è a Roma, non è potuto venire qua, però è il capo dell'innovazione di Terna, è alle mie spalle, lui mi vede frontale. Frontale, benvenuto a Luca Orru, che è appunto il capo dell'innovazione di Terna. Poi mi dice lui magari specificamente esattamente proprio la sua carica e in ogni caso ne approfitto per ringraziare Terna perché in realtà è grazie a Terna che si tengono questi incontri dedicati all'energia in particolare oggi. Orru, mi dica lei la sua carica esatta, saluti i nostri ragazzi che sono qua tanti ad ascoltarla. Grazie, grazie mille e benvenuti insomma a questo appuntamento. Sì, io appunto vi ringrazio insomma a nome di Terna. In realtà non sono il capo di tutta l'innovazione di Terna, diciamo che è collega Garri, Massimiliano Garri, ma sono il responsabile dell'innovazione, diciamo di una parte dell'innovazione che si occupa del sistema operator. Poi chiaramente ne parlerò meglio insomma dopo, quando farò il mio intervento. Poi ci spiega esattamente cosa fa. Ok, poi alla mia destra invece abbiamo Giorgio Graditi, è direttore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche che è fonte rinnovabili di Enea, Innovation Roadmap Technology invece era Orru. E poi Fazzioli che è professore di Economia dell'Energia e dell'Ambiente all'Università di Ferrara ed è anche a capo di un fondo di investimenti. Corretto? Bene. Allora, anche oggi ovviamente tratteremo il tema dell'energia, abbiamo diversi player nel senso che ieri abbiamo più professori universitari anche se ovviamente con visioni anche molto molto differenti rispetto a quello che potrebbe essere o sarà il tema dell'approvvigionamento energetico. Oggi invece abbiamo delle persone che lavorano sul campo. Quindi io direi, prima di tutto la parola a Graditi di Enea, abbiamo intervistato anche noi come quotidiano, di fatto magari vi capita se vi occupate di energia di ascoltarlo perché è un'autorevole voce anche dal punto di vista della comunicazione ed è un divulgatore di questi temi. Per cui sentiamo un po' che cosa ha da dirci rispetto a questo tema oggi. Anche ieri come oggi ho chiesto un po' le cose fondamentali da mettere in campo entro il 2030 e entro il 2050 quindi un po' giro le mie domande, seppur banali, però comunque alla fine quelle che girano intorno a questo mondo. E quindi niente, le lascio la parola, grazie di essere intervenuto e sentiamo cosa ha da raccontarci. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Mi fa piacere vedere l'aula piena, soprattutto poi di sabato mattina, quindi essere presenti. Allora, intanto solo due parole senza tediarvi. Io dirigo un dipartimento che si occupa di tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, quindi sostanzialmente lavora nel dominio che va dalla fonte di produzione sino a tutti quelli che sono gli usi finali. Dipartimento da 500 persone in cui lavorano tecnici, ricercatori, amministrativi, persone che si occupano di tecnologie, ma anche di economia, di rapporto poi tra economia e energia, eccetera, eccetera. L'Enea, soltanto per vostra informazione, è l'Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, secondo ente di ricerca nazionale. Detto questo, e il tema di cui parliamo oggi è un tema centrale, tutti quanti giornalmente viviamo con l'energia e condividiamo parte del nostro tempo, del nostro spazio, delle nostre attività con l'energia. Quindi l'energia ci serve, è un bene sicuramente primario, la dobbiamo produrre, la dobbiamo utilizzare e dobbiamo anche tracciare oggi i percorsi che poi ci consentiranno di avere a disposizione energia nel domani. Si accennava prima che la domanda di energia cresce, costantemente continua a crescere. Primo luogo perché aumentano la popolazione, aumentano le esigenze, anche, lasciatemi dire, i comfort, gli standard di vita. Dobbiamo farlo in un modo più sostenibile. Più sostenibile significa rispettare non soltanto l'ambiente, significa rispettare tutto l'ecosistema nel quale noi viviamo e del quale siamo anche soggetti protagonisti. Quindi significa guardare con molta attenzione alle fonti rinnovabili, tutti voi immagino che conosciate perfettamente il concetto di fonte rinnovabile, quindi parliamo di solare fotovoltaico, di olico, di utilizzo delle biomasse, di potenziale energia dal mare, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo creare comunque un mix energetico, perché per dare una risposta concreta e corretta alla domanda di energia ci servono più soluzioni tecnologiche. Se noi vogliamo traguardare un obiettivo di neutralità climatica, che è comunque un obiettivo di lungo periodo, stiamo parlando, come diceva la moderatrice prima, 2030 e poi 2050, dobbiamo sviluppare soluzioni che oggi magari non sono mature da un punto di vista tecnologico, quindi non sono disponibili a livello di prodotto commerciale o comunque industriale, ma che lo saranno nel futuro. Ci sono aspetti non squisitamente tecnologici che impattano nel concetto della transizione energetica. Guardate che la transizione energetica è veramente una sfida importante, la dobbiamo seguire bene e dobbiamo cogliere anche le opportunità che può generare, ma non trascurare le difficoltà che comunque ci presenta, perché è qualcosa che interessa la società nel suo complesso, va ad aspetti tecnologici, economici, finanziari, normativi, regolatori, sociali, culturali, quindi è veramente un percorso, è una catena del valore molto ampia, molto significativa. Ci sono elementi, ripeto, che si identificano come possibili barriere. Quali sono quelle più evidenti o quelle che comunque tutti noi in qualche modo riscontriamo? Certamente ci sono degli elementi di natura regolatoria, cioè sostanzialmente normativa, quindi processi ad esempio autorizzativi complessi, processi differenziati a secondo dei territori, processi differenziati a secondo delle tecnologie, e quindi dobbiamo fare una transizione burocratica, cioè dobbiamo semplificare il sistema che ci consente poi di trasformare un'idea in qualcosa. Ci sono degli elementi di natura economica, poi su questo sicuramente il relatore che mi seguirà potrà più di me entrare nel merito, che sono legati al fatto che molti degli investimenti dipendono da scenari economici, in primo luogo anche una non stabilità o una tendenza di crescita del costo delle materie prime, che può determinare poi degli economics, cioè degli indici di merito associati a questi investimenti non particolarmente sostenibili. Ci sono degli aspetti di accettabilità, che non è soltanto un'accettabilità sociale, ma anche culturale, cioè dobbiamo fare anche da questo punto di vista una transizione di pensiero. Noi dobbiamo creare l'energia, produrla, e dobbiamo ovviamente trovare degli elementi virtuosi, quindi non sto parlando di compromesso, sto parlando di connubio virtuoso, tra quelli che sono gli elementi positivi, necessari, indispensabili nel produrre energia, e quelli che possono essere gli impatti che questo sistema in qualche modo determina. E chiudo su un altro punto che mi fa ancora di più piacere rilevare in questo posto, l'università è il luogo della cultura, del sapere, abbiamo un punto centrale dove ci stiamo giocando e ci giocheremo il futuro. Tutti voi avete sentito parlare di PNRR, ad esempio, e il punto centrale è quello della formazione, delle creazioni delle figure professionali. Qui viviamo una seria criticità. Oggi già il mercato ci chiede diverse figure professionali che noi non abbiamo, non abbiamo per due ragioni, non li abbiamo né quantitativamente e in molti casi non li abbiamo proprio come figure professionali. Quindi dobbiamo ragionare insieme su creare i nuovi percorsi formativi per costruire oggi ciò che la transizione ci richiederà già adesso e soprattutto domani. Qui serve scuola, università, ricerca, industria. E serve anche una politica, lasciate dire, governativa, che indirizzi correttamente tanto la parte degli investimenti industriali quanto quella della formazione. Grazie. Grazie a lei. Ma quindi, diciamo, lei come le vede quali sono i passaggi principali? Quali sono, in sintesi, diciamo, gli aspetti principali che bisogna fare? Una questione psicologica, diciamo, no? Quindi trovare in questa transizione anche una modalità per capire la transizione, oltre che farla. Poi andare oltre, diciamo, le nostre credenze, no? Quindi non avere ideologie, anche ieri molto ne abbiamo parlato. Togliamoci, no? Questa cosa di ideologia, impariamo, leggiamo, cerchiamo di capire, eccetera. E poi le figure professionali. Infatti qua, no? Siamo tutti che ci stiamo formando in qualche modo perché mancano e saranno i lavori del futuro. Ieri abbiamo visto, c'era un economista che proprio ci spiegava come le prospettive professionali nel mondo dell'energia non andranno che a ampliarsi. Fondamentalmente, lei poi rappresenta Enea, immagino, no? Abbiamo visto che Enea ha avuto un ruolo molto, molto importante adesso come player rispetto all'asseverazione di tutta una serie di compiti del PNR, del governo. Enea si è occupata tramite i portali del super bonus. Cioè, è proprio la responsabile, no? Quella che fa in modo che tutte le aziende che ristrutturano le case, eccetera, eccetera, in realtà passi dal portale di Enea. Cioè, Enea ha un ruolo molto, molto importante, politico, ma anche pragmatico, poi, all'interno del, no? Quali sono le cose che di qui al 2030 in realtà dobbiamo assolutamente portare a termine, secondo lei? Indubbiamente dobbiamo aumentare la capacità di rinnovabile. Dico qualche numero, ma non per annoiarvi. Noi dobbiamo, per traguardare gli obiettivi previsti a livello europeo e nazionale, noi dobbiamo sostanzialmente installare circa 130 gigawatt di rinnovabili al 2030. Oggi, per farvi capire, ne abbiamo 60, quindi ce ne manca altrettanto. Se cresciamo col tasso di installazione che abbiamo avuto sino al 2021, ovviamente questo percorso non è raggiungibile. Dobbiamo moltiplicarlo di un fattore 6-7. Per fare ciò, al di là della tecnologia, ripeto, serve la transizione burocratica. Dobbiamo semplificare i percorsi, altrimenti questi processi non si riescono a chiudere. Dobbiamo eliminare preclusioni e barriere concettuali, perché l'energia si affronta come un sistema complesso, articolato, qual è? E quindi serve un mix di soluzioni da sposare correttamente in funzione delle esigenze. Dobbiamo favorire l'efficienza energetica, si citava prima, perché è una cosa giusta, lasciate venire, di buon senso. Il modo migliore intanto per risparmiare l'energia è consumarla di meno e consumarla meglio. Su questo serve sicuramente una partecipazione attiva e proattiva dei cittadini. Dobbiamo andare nella direzione di costruire le figure professionali, perché se ieri ne avete parlato avete visto quanti sbocchi di figure professionali ci sono. Lì i percorsi sono due. Da un lato bisogna fare il cosiddetto reskilling, cioè dobbiamo riqualificare le competenze attuali indirizzandole verso le nuove richieste di mercato. E dall'altro dobbiamo costruire invece proprio delle figure professionali che rispondono a nuove richieste. E come ultimo punto, lasciatemi dire, è chiaro che qui gioco un po' in casa, bisogna rafforzare questo rapporto di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con le filiere industriali. In Italia partiamo sostanzialmente di filiere manifatturiere, dove l'elemento di innovazione e trasferimento tecnologico diventa centrale per poter poi dare un incremento di competitività alla nostra industria. Avere un'industria più competitiva significa avere più PIL, prodotto interno lordo che cresce, significa avere nuova occupazione, fertilizzazione territoriale, sviluppo quindi di nuove prospettive che poi si traducono in benessere o in ogni caso in benefici di natura collettiva. Grazie. Ovviamente siete invitati a fare domande, se non capite io stessa faccio domande e interrompo i nostri interlocutori, per cui siccome qui nessuno nasce imparato e le tematiche sono abbastanza complesse, è ben lecito e anzi ben accetto il fatto di alzare la mano e domandare. Per esempio io ho sentito un fattore 6-7, diceva, quindi per arrivare agli obiettivi 2030, noi dobbiamo, fattore 6-7 vuol dire che bisogna moltiplicare, io ho fatto lettere, scusate. Dobbiamo moltiplicare per numero, per 6-7 volte la potenza di fotovoltaico e olico che installiamo oggi o che abbiamo installato nel corso di questi anni. Per arrivare agli obiettivi 2030. Quindi comprendete che stiamo parlando di un incremento importante, quindi bisogna lavorare bene in questa direzione e mettere a sistema tutte le esigenze, ma dall'altro superiare tutti gli ostacoli che ci sono. Grazie. Allora, adesso io farei parlare Luca Orru, appunto, il capo dell'Innovation Roadmap and Technology Terna. Luca, ci sente? Perfetto. Tra l'altro, Innovation Roadmap mi sembra proprio, diciamo, che sia un po' quello di cui stiamo parlando, nel senso che la roadmap è la strada da percorrere. Scusate, io guardo qui perché vedo il suo volto qui davanti a me, non perché non voglia guardare voi. Quindi, dottor Orru, cosa ne pensa di quello che ha detto il collega e quali pensa che siano, diciamo, il percorso quindi da fare da qui al 2030? Quali sono le problematiche? Ieri, tra l'altro, abbiamo parlato di voi perché parlavamo, appunto, dei cavi sotterranei che portano, diciamo, l'energia, no? al nostro paese e quindi c'era un ragazzo che è intervenuto, se non sbaglio, che appunto ci parlava di questo. Le lascio la parola, così ci racconta un po'. Grazie. Ma intanto, ovviamente, saluto Giorgio, Giorgio Graditi, anche se purtroppo non ci vediamo, diciamo, in presenza, con cui ovviamente lavoriamo a stretto contatto, su vari fronti, insomma, come Terna e anche personalmente. Saluto anche i propri sorpazioli con l'occasione. Sicuramente Terna, magari dico due parole su chi siamo e che facciamo, anche se ho capito che appunto già avete parlato di noi. Comunque Terna è, diciamo, l'operatore della rete di alta e altissima tensione italiano. È uno dei più grandi di Europa, se non il più grande in termini di estensione della rete. Quindi di fatto noi sviluppiamo, manuteniamo e eserciamo la rete fisica di trasmissione, quindi sono i tralicci più grandi, insomma, per intenderci, quelli che poi portano l'energia a distanze più lunghe e la consegniamo appunto ai distributori che poi la consegnano casa per casa, diciamo, fondamentalmente. Questo dal punto di vista della rete fisica. Dopodiché abbiamo anche un compito importante, motivo per cui ci, diciamo, ammiamo a definirci i registi del sistema, insomma, di, parola brutta, di spacciamento e conduzione dell'energia. Che significa? Significa che istante per istante controlliamo e dirigiamo il traffico, diciamo, per così dire, dell'energia sulla rete elettrica. Quindi fondamentalmente facciamo in modo che arrivi correttamente dai centri di produzione, dalle centrali fino appunto alle case. Questo è un po' il nostro compito. Ovviamente garantendo continuamente la sicurezza dell'esercizio elettrico, quindi evitando ovviamente che ci siano blackout. Fortunatamente i blackout sono un evento rarissimo, quindi vuol dire che immediatamente, diciamo, svolgiamo il nostro compito bene. Questo è un po' il punto. Riusciremo a svolgerlo altrettanto bene anche nel futuro? Ecco, appunto, questo è esattamente il punto chiave sul quale mi voglio soffermare qualche minuto per rispondere, insomma, diligentemente al compito che mi è stato assegnato, cioè di indicare le sfide principali dal nostro punto di vista, di operatori del sistema, del suo complesso, quindi di coordinatori, se vogliamo, del sistema energetico. Quindi, anzitutto, condivido in pieno quello che è stato detto prima da Giorgio, cioè la prima sfida è sicuramente le rinnovabili e per quanto ci riguarda non è ovviamente tanto sviluppare nuovi impianti perché non è un nostro compito, ma fare in modo che poi gli impianti che devono essere realizzati e collegati alla rete, che quindi abbiamo visto che devono essere molti e molti di più, quindi con un tasso, diciamo, di crescita molto maggiore rispetto all'attuale, se vogliamo raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che, tra l'altro, l'Europa ha recentemente rivisto, ovviamente aumentando l'asticella della sfida, quindi col pacchetto FIFT e 455, il problema per noi è appunto integrare le rinnovabili nel sistema. Non è soltanto un problema che è comunque abbastanza, diciamo, importante e difficile da risolvere, di connetterli fisicamente alla rete, ma poi di gestirli nel suo complesso. Tutti quanti voi sapete che la rete elettrica è gestita, ovviamente, con corrente, diciamo, alternata, quindi fondamentalmente questo, fin dall'inizio, diciamo, dell'era elettrica, quindi questo comporta di vari vantaggi, insomma, compresa la minimizzazione delle perdite sulla rete, che sono veramente pochi punti percentuali, e quindi riuscire a trasportare energia su grandi distanze. Questo fa sì, però, che c'è una necessaria coincidenza tra produzione e consumo, quindi fondamentalmente nel momento stesso in cui la domanda aumenta, quindi il carico elettrico, quindi le luci che vengono accese nelle case, piuttosto che gli elettrodomestici che vengono accesi, richiedono energia, questa energia deve essere fornita istantaneamente. Ovviamente questo comporta, appunto, la complessità della gestione del sistema elettrico, insomma, che ha tutta una serie di accortezze, di accorgimenti tecnici e operativi, che servono, insomma, per garantire quella che si chiama stabilità al sistema, cioè per far sì che, appunto, questo equilibrio tra domanda e, appunto, produzione sia sempre, diciamo, ci sia sempre, insomma. Ecco, con le rinnovabili il problema dell'equilibrio diventa più importante, perché le rinnovabili sono intermittenti, il solare produce quando c'è il sole, banalmente l'eolico quando c'è il vento, l'idroelettrico quando c'è acqua, e purtroppo abbiamo visto che anche in questo caso, diciamo, quando in periodo di grande siccità, purtroppo quella fonte non è disponibile, quindi c'è il problema di gestire questa intermittenza a vari orizzonti temporali, da quello quotidiano a quello orario, a quello stagionale e così via. Quindi il primo problema che, come gestore di sistema, dobbiamo affrontare e risolvere è proprio questo, insomma, con varie, chiaramente, accortezze dal punto di vista operativi, ma soprattutto di innovazione, quindi introdurre nella rete dispositivi come per esempio gli impianti di storage, insomma, ma non solo, ce ne sono tantissimi, insomma, a seconda appunto del livello temporale, insomma, del problema, su cui stiamo lavorando per far sì che questo equilibrio continui ad essere garantito, e che quindi di fatto sia possibile avere un sistema elettrico 100% rinnovabili senza avere blackout tutti i giorni o tutte le ore, insomma, cosa che evidentemente non è, diciamo, apprezzabile. Poi vado rapidamente su altre sfide che riguardano invece aspetti di mercato, come per esempio, non l'ho detto, ma insomma, Terna gestisce anche un segmento del mercato elettrico che si chiama mercato dei servizi di dispacciamento, quindi tutto ciò che serve per garantire la sicurezza del sistema elettrico, Terna lo deve comprare su un mercato dove viene garantita chiaramente la competitività e l'accesso libero da parte di tutti i fornitori che possono offrire quel tipo di servizi. Quindi noi dobbiamo garantire chiaramente pari condizioni e garantire soprattutto il minimo costo per il consumatore, cioè per il sistema elettrico nel suo complesso. Quindi la sfida in questo caso è consentire a tutte le piccole risorse, le cosiddette risorse energetiche distribuite, come per esempio faccio un esempio diciamo noto la mobilità elettrica, quindi i veicoli elettrici che aumenteranno sempre più di numero e stanno già crescendo in modo diciamo non esponenziale ma insomma comunque in maniera importante negli ultimi anni, le stesse appunto macchine elettriche sono dei piccoli accumulatori e possono fornire dei servizi di rete. Il problema appunto è gestire una moltitudine di impianti, parliamo di milioni di impianti connessi tra l'altro su reti che Ternan non vede perché appunto sono reti di diciamo di media e bassa tensione e però consentire comunque in modo aggregato a queste risorse di partecipare ai mercati cosa che comporta diciamo anche una difficoltà una quantità di dati da dover gestire insomma in tempo reale sostanzialmente cioè nell'ordine delle ore per riuscire appunto ad avere a disposizione queste risorse e ridurre il costo dell'energia poi in ultima analisi. Altre sfide poi magari mi fermo diciamo perché poi la lista purtroppo è lunga per fortuna perché poi questo comporta anche diciamo ne ho citate due quindi diciamo l'altra sfida che mi piace citare visto che è stata nominata con il termine cavo è proprio quello di sviluppare la rete la rete fisica la capacità di trasporto della rete quindi incrementarla sempre di più non soltanto come dire aumentando la capacità fisica quindi installando diciamo linee elettriche con conduttori che riescono a trasportare più energia e sicuramente i cavi interrati la tecnologia cosiddetta HVDC è quella diciamo più indicata in questo momento ma anche intervenendo con opportuni sensori che consentono di fatto di massimizzare la capacità di trasporto delle linee esistenti questo è molto importante perché noi sfruttando le caratteristiche ambientali per esempio il fatto che le temperature sono più basse il vento ospira di più sulle linee aeree cioè i conduttori quelli diciamo classici appesi ai tralicci insomma che vediamo ovunque riescono per esempio a trasportare più energia quando ci sono condizioni meteo adeguate quindi grazie a una distribuzione di sensori meteo e di monitoratori diciamo dello stato delle linee elettriche prego diciamo che si raffreddano più facilmente siccome come i ragazzi che studiano fisica sanno c'è l'effetto joule quindi una corrente che scorre in un conduttore lo scalda e più corrente scorre in quel conduttore più il conduttore si scalda e il fatto che si scalda non è privo di conseguenze diciamo perché il conduttore si allunga scaldandosi e può arrivare diciamo ad abbassarsi troppo avvicinarsi a terra e questo chiaramente deve essere evitato insomma quindi non si può scaldare oltre un certo limite se però tira molto vento che per esempio è la condizione ideale per avere anche grande produzione di eolico contemporaneamente su cui il conduttore può transitare più energia quindi noi possiamo diciamo far scorrere più energia su quel conduttore tenete presente che normalmente fino ad oggi nessuno esercisce la rete con dei limiti di trasporto variabili di questo tipo anche per motivi di sicurezza si preferisce stabilire un vincolo statico e ovviamente poi l'operatore di rete rispetta diciamo cerca di rispettare insomma quel limite la sfida in questo senso è proprio quella di invece impostare dei sistemi basati sui sensori e anche su algoritmi di calcolo efficaci che consentono diciamo di invece superare questo limite statico adesso come mi ha fatto la domanda ho provato diciamo a entrare un po' più nel tecnico insomma perfetto e poi per chiudere ovviamente c'è sempre il problema di mantenere in efficienza questa rete con tecnologie innovative come la manutenzione predittiva per esempio quindi intervenire prima che il guasto accada oppure utilizzo di droni per monitorare e ispezionare le linee utilizzo di robot e di altri materiali diciamo anche per garantire la sicurezza del lavoro perché tenete presente che noi abbiamo una rete distribuita ovunque e quindi richiede grandi risorse e grande dispendio insomma di anche di personale insomma di operai per mantenerla in efficienza poi l'ultimo punto last but not least come dicono sempre gli inglesi è purtroppo i cambiamenti climatici si portano dietro anche fenomeni meteorologici estremi ne abbiamo è inutile che li elenca ne abbiamo purtroppo sotto gli occhi continuamente e siccome la nostra è un'infrastruttura distribuita sul territorio che passa anche attraverso le montagne nelle valli vicino ai fiumi e così via è molto quindi soggetta ai cambiamenti climatici ai fenomeni meteo avversi c'è il problema di rendere la nostra rete sempre più resiliente come si dice appunto con interventi che consentono di farla più resistente più robusta però senza spendere troppo e quindi allo stesso tempo trovare diciamo il giusto equilibrio non è neanche questo un mestiere facile insomma quindi le sfide come vedete sono molte e su vari fronti grazie Orru c'è già una domanda io forse la faccio fare così almeno rompiamo un po' il ritmo chi può portare il microfono al signore no no aspetti perché stiamo registrando anche quindi c'è bisogno proprio di avere la voce dentro il microfono se no non lo possiamo sentire solo una parola superconduttori che punto siamo adesso mi spiega anche cosa sono i superconduttori grazie ho premesso che è un tema sul quale ovviamente non ho una competenza specifica i superconduttori sono fondamentalmente dei conduttori quindi dei metalli insomma che hanno però la proprietà diciamo di arrivare virtualmente a resistenza zero in determinate condizioni magari su questo sicuramente il dottor Graditi ne sa qualcosa in più quindi Giorgio eventualmente se vuoi aggiungere quindi il problema di base è che però queste condizioni ambientali significa temperature molto basse almeno lo stato attuale poi si sta lavorando anche su superconduttori che lo diventano a temperature più alte ma sempre 200 gradi sotto zero mi sembra se non ricordo male insomma quindi comunque molto molto basse e questo è il motivo per cui di fatto al momento non li consideriamo una soluzione almeno per le reti di trasmissione perché appunto significerebbe portare a temperature molto basse conduttori cavi lunghi chilometri insomma quindi con costi e anche con difficoltà proprio di gestione di un impianto di raffreddamento chiaramente con gas diciamo appunto elio per esempio che comportano quindi il mantenimento di diciamo di isolamenti per appunto lunghi insomma tratti di impianto quindi dal punto di vista realizzativo al momento stiamo monitorando ovviamente la tecnologia è sicuramente interessante per alcune applicazioni locali diciamo per le stazioni elettriche insomma per alcuni impianti insomma per i trasformatori insomma per altri tipi di impianti ma pensare ad un'ampia applicazione di questa tecnologia diciamo che per il momento è un po' lontana insomma dall'orizzonte ecco degli eventi posso solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Luca che condivido è pieno allora la sfida della superconduttività si gioca sulla temperatura cioè il problema è questo per mantenere la superconduttività c'è la capacità di accrescere la conducibilità cioè far passare sostanzialmente più corrente e bisogna rispetto a quello che oggi abbiamo disponibile in termini di tecnologia bisogna arrivare a temperature che sono sostanzialmente temperature vicine a quell'ambiente oggi la superconduttività si gioca a temperature molto basse vicine quasi allo zero assoluto quindi siamo a meno 200 gradi per arrivare a quelle temperature bisogna fra l'altro spendere energia parecchie energie poi bisogna mantenerle quindi è evidente che la ricerca sta lavorando nella direzione di trovare soluzioni che ci consentono di garantire la superconduttività riducendo la temperatura siamo ancora distanti però già si stanno facendo dei progressi su alcune soluzioni già si riesce ad arrivare a meno 100 gradi però per applicazioni più diciamo limitate nel caso della rete il problema è più complesso come ha spiegato Luca perché poi una superconduttività sulle distanze lunghe insomma e soprattutto su cavidotti che sono tra licci quindi linee aeree diventa oggettivamente una cosa poco praticabile grazie grazie adesso visto che comunque non ha ancora parlato io lasciare la parola al professor Fazzoli tra l'altro credo no niente ah ok credo che che il suo punto di vista sia molto interessante io mi sono confrontata con lui in una telefonata prima di diciamo moderare questo panel e quindi sì diciamo se vogliamo un po' guardare le cose fuori da appunto le ideologie sicuramente Fazzoli ha qualcosa da raccontarci bene buongiorno a tutte e a tutti in primo luogo siccome per mestiere ho vestito tutti i panni quasi mi vuole presentare come un attore nel senso che ho lavorato e lavoro in tutti i campi quindi fatemi tutte le domande possibili immaginabili anche quelle più basic perché quando si parla di energia si parte sempre con degli assunti ok si dà per scontato tutto un blocco di considerazioni e si parte dalla sostenibilità allora siccome sono pur sempre un professore ok di economia dell'ingegno dell'ambiente in primo luogo ho chiesto di partire con sullo sfondo quel grafico lì perché la storia ha un grande valore la storia ha un grande valore esempio quando io cominciai a lavorare come dirigente NEA si chiamava Ente Nazionale Energia Atomica E-N-E-A oggi si chiama Ente Nazionale Energia Ambiente wow fantastico quando c'era Terna quando io andai giù a Roma mi feci dieci anni a Roma io ero veni chiamato al Ministero dell'Industria si chiamava io sono stato capo segreteria tecnica di Bersani e capo segreteria tecnica di Letta per fare il decreto Bersani e il decreto Letta perché si pensava all'epoca per motivi ideologici e non ho timore a dirlo per motivi ideologici che il mercato quindi l'insieme delle scelte egoistiche individuali non dimenticatelo mai Adam Smith primo capitolo il più grande libro di comunicazione di bufale che mai si sia immaginato indagine sulle cause della ricchezza delle nazioni Adam Smith 1776 uno dei primi illuministi della storia nel primo capitolo che tutti i politici studiano a memoria dicono il massimo benessere collettivo lo si avrà dal massimo dell'espressione egoistica del lattaio e del macellaio tutti applaudono wow wow la base dell'economia liberalista ma come vai però è il primo capitolo e il libro che me lo sono dovuto cuccare di 700 pagine nessuno legge il seguito nel seguito Adam Smith siccome è pur sempre un illuminista disse per realizzare quella roba lì devi però fare queste cose qua allora c'è la teoria del principe illuminato illuminismo scuole pubbliche istruzione pubblica sanità infrastrutture tutte fatte dal principe illuminato allora c'è qualcosa che tocca Terna si ricorderà una volta era un pezzo di Enel io quando andai al Ministro dell'Industria c'era Enel ente nazionale energia elettrica quando nasce Enel nasce nel 1962 giusto? sì nel 1962 Confindustria quindi non il partito comunista Confindustria 1962 chi come mai i capelli bianchi in testa vuol dire si era in pieno boom economico dell'Italia che si stava sollevando dallo sfaccello della seconda guerra mondiale giusto? sì per alimentare lo sviluppo industriale su cui poi è nato tutto il nuovo realismo cinematografico eccetera eccetera appunto il boom economico italiano c'era bisogno di energia certa continua sicura economica non lo dico io Confindustria diceva nel 1962 il governo Fanfani la destra la destra di C per intenderci nazionalizzò l'industria elettrica full stop comprò le azioni di tutte le società elettriche in Italia e da lì partirono ingentissimi investimenti per una grande sfida epocale di portare energia elettrica dalla Val d'Aosta alla Calabria a Sicilia a Sardegna ovunque in modo omogeneo continuo sicuro affidabile e a basso costo con quali soldi è stato fatto questo grande programma di investimenti con quali soldi qual è la fonte finanziaria attenzione io lavoro a Londra in un fondo di investimenti io sono il cattivo io sono il diavolo io sono lo speculatore quindi fatemi domande da cioè vedetemi come il diavolo fate domande al diavolo ok bene io sono lo speculatore e vi spiego qual è la base razionale della speculazione ok allora chi finanziò il grande piano di infrastrutturazione energetica elettrica in questo caso dell'Italia chi lo finanziò taxpayers ma è una fonte di finanziamento straordinaria se tu non paghi le tasse ti metti in galera più di moral suasion così giusto non so se è chiaro è il denaro a minor costo se ci pensa qual è il denaro a minor costo quello che viene dalla imposizione fiscale si chiamano imposte se si chiamano imposte ci sarà un motivo no imposte cioè tu non hai alternative devi pagare le imposte e quindi con un uso il termine in inglese apposta con un IRR internal rate of return richiesto zero a volte anche negativo perché Enel andava in deficit e così poi cosa succede a un certo punto spinti da un approccio liberalizzatore di matrice anglosassone perché non dimentichiamoci mai che noi economisti siamo tutti formati in Inghilterra tutti siamo spediti a calci nel sedere a fare il masto in Inghilterra succede che parte l'idea che il mercato possa rispondere a queste esigenze di pianificazione energetica perché ma secondo voi per un investitore ragazzi e ragazzi per un investitore qual è il settore più utile più attraente quello che ha la domanda rigida perché le utilities l'altro mio corso che faccio in università perché le utilities interessano il mondo della finanza perché la domanda è rigida perché la domanda è obbligatoria sono servizi essenziali quindi il tuo business plan ha un cash in certo su cui posso fare i miei business plan mi spiego le cose variabili hanno un coefficiente beta per il quale deve introdurre degli IRR richiesti molto più alti ok adesso per giunta in tutto il mondo della cosiddetta green finance ragazzi la green finance è finance ma che a livello di marketing è il green non so se è chiaro quindi uno dice io studio green finance no tu studi finance andate a studiare strumenti finanziari gli date una spennellata di verde e perché una spennellata di verde attenzione io io seguo investimenti nel settore green io costruisco le comunità energetiche rinnovabili quindi fatemi domande dopo però i temi sono così tanti perché perché questo tema green attrae per me attrae lato finanza è fantastico io ho una capacità di funding fantastica perché tutti un po' devono lavarsi la coscienza e così via io quindi nel mio portafoglio di investimenti metto sempre una quota green importante poi se voi andate a vedere su internet l'andamento negli ultimi anni delle azioni quali sono le azioni che rendono di più oil oil and gas ovvio quindi nel portafoglio io metto investimenti oil sotto traccia faccio degli investimenti green che per me è marketing peraltro ho gli stati che mi garantiscono come per le comunità energetiche io per vent'anni ho gli incentivi per me sono un bond investo faccio un business plan vivo in forno un rendimento del 6-7% supponiamo 6-7% costruisco un bond ventennale al 2,5% lo vendo a fondo pensioni faccio uno squeezing del discounted cash flow e guadagno una pacchetta di soldi mi seguite? però ho finanziato le comunità energetiche però scusate e chiudo questa prima parte del mio intervento su un richiamo ai pezzi fondamentali perché altrimenti e allora guardate da vecchio professore Gesso da dove nasce l'idea le politiche della sostenibilità nascono tutte dal rapporto Brundelan mi sembra ma potrei sbagliare 1989 è un rapporto ONU lo trovate su internet ve lo scaricate sintetizzo l'impatto ambientale è riconducibile è una liofilizzazione di un tomo così per intenderci è dato da la crescita demografica perché a sua volta si trascina ragazzi in 150 anni da un miliardo a 7 miliardi e mezzo sta gente vuole energia direttamente o indirettamente energia anche di trasformazione di cibo vestiti e quant'altro giusto? quindi cresce la popolazione cresce la domanda di energia fine cioè non è una cosa opinabile capite perché tengo sempre proiettata quella roba lì? ok per A che sta per average consumption diciamo way of life cresce la popolazione ma cresce anche diciamo la propensione consumistica usiamo questo termine consumo medio pro capita e quant'altro e con lo sviluppo ovviamente dei diritti individuali la domanda individuale cresce in modo progressivo quindi da un miliardo a 7 miliardi e mezzo e con i consumi medi pro capita in crescita wow ok a parità di risorse naturali della terra chiaramente poi T T è una in terma sintesi è l'evoluzione tecnologica visto l'atto input ovvero la quantità di input di risorse naturali necessarie per alimentare quella crescita di domanda la domanda è cresciuta in modo oggettivo quel grafico voglio dire non ha bisogno di commenti probabilmente lo conoscete cioè quello è allora di cosa stiamo parlando oggi stiamo parlando dell'economia del frattempo perché tutti voi ragazzi e ragazzi siete sempre indotti a vedere questi policy maker io ho fatto l'assistente di tutti i policy maker dell'arco costituzionale ok di tutti quindi il policy maker vuole massimizzare il proprio torno a conto elettorale cioè la massima capacità attrattiva di voto nei contesti che si chiamano democratici o di delega attraverso il voto e chiaramente non ci si può sottrarre un'esigenza di questo tipo oggi siamo di fronte un problema di impatto ambientale crescente a quale di questi parametri possiamo dare retta cosa ha detto Brundland in quel rapporto in quel rapporto Brundland dice bisognerebbe agire contenendo la dinamica demografica poi lui stesso dice ma la cosa è difficile allora bisognerebbe agire diminuendo la propensione consumistica ma un nuovo francescanesimo sinceramente non avrebbe le basi democratiche per essere eletto giusto finisco con ti quindi qual è la soluzione la soluzione è evidentemente minimizzare la quantità di input che il processo generativo di energia richiede come incrementando l'efficienza energetica abbiamo visto abbiamo speso in Italia 60 miliardi per il super bonus che è dato là a speculazioni inenarrabili per poi arrivare a contenere di 200.000 barili anno l'equivalente di risparmio energetico cioè niente anzi se poi applico voi conoscerete l'LCA l'Life Cycle Assessment cioè l'analisi degli effetti diretti e indiretti di tutto quello che è lo sviluppo dell'efficientamento degli involu che degli edifici cioè io ho attaccato ai muri del polistirolo sostanzialmente se applicassi un'LCA seria vedrei che addirittura ho peggiorato l'impatto ambientale con il super bonus però vabbè quindi effetto praticamente nullo di incrementi di efficienza energetica che pur ci sono e finisco oppure sviluppare le fonti rinnovabili sviluppare le fonti rinnovabili ma attenzione quando esaminate bene fuori dalle ideologie le fonti rinnovabili dovete guardare insieme quel grafico lì ragazzi a quella domanda di energia bisogna dare una risposta eterna lo sa bene l'ha anche detto a quella domanda di energia bisogna dare una risposta istantanea istantanea e purtroppo a oggi mentre parliamo Gaber diceva la rivoluzione oggi no domani forse ma domani l'altro e quindi tutti gli anni avete gli obiettivi ti ricordi 2020-2020 poi 2020 poi 2030 poi 2050 l'India dice 2070 no? finisco con due proposte e poi ho finito ok? ho mezzo minuto è la terza volta che dice che è finito eh ha ragione ha ragione no basta basta va bene no no vai Falzioni no perché poi le proposte mi interessano per cui prego anzi sul tema su questo tema dell'etiquio ma stare attenti che le fonti rinnovabili banalmente fotovoltaico ed eolico di nuovo applicando un LCA qualora si voglia far assurgere queste fonti energetiche a fonti sistematiche affidabili e continue occorre dotarli di un sistema di storage banalmente batterie posto i tempi che ci vorranno che sono già stati evidenziati da chi mi ha preceduto evidentemente se voi applicate l'LCA addirittura al sistema delle batterie dello storage quindi terre rare e quant'altro ciaone ciaone in termini di patria ambientale quantomeno pro e contro quindi pay attention che c'è tutto il sistema di idrocarburi che avrebbe anche una frontiera tecnologica quella è la CCS è perfetta? no ma ragazzi da 1 a 7 miliardi e mezzo cioè e chiudo con due proposte la prima c'è tutto un mondo si chiama di demand side management cioè vogliamo veramente minimizzare l'impatto ambientale vogliamo veramente minimizzare l'impatto antropico allora dobbiamo guardare non solo lato offerta supply side certo c'è la tecnologia che va avanti siamo qua al Politecnico per l'amor di Dio ma molte cose sono state dette giustamente domanda ci vorrà un nuovo francescanesimo bisognerà immaginare che si diminuisca la domanda di energia è inutile girarci attorno piace? no è così? sì quando l'Italia uscì dalla seconda guerra mondiale nazionalizzò le industrie energetiche Eni ed Enel perché o hai degli strumenti forti verticalmente integrati oppure i poveracci scusi adesso do il tema poveracci terna poveraccia deve cucarsi le più grandi speculazioni del sottoscritto e dei miei colleghi che applicano strategie su non tanto il mercato del giorno prima ma proprio sul mercato dei servizi di spacciamento con non vi annoio magari a domanda rispondono che è il luogo delle speculazioni la borsa elettrica è il luogo delle speculazioni punto quindi la prima cosa è certamente demand side management cioè politiche lato domanda ripeto piacciono? no sono necessarie? sì se si vogliono quegli obiettivi e l'altro ma scusatemi tutti voi io incluso di quanti prodotti cinesi o indiani siamo pervasi nella vita quotidiana e sono aree che vanno a carbone neanche a gas vanno a carbone senza CCS e allora perché parliamo di carbon tax io ero membro della commissione parlamentare che introdusse la carbon tax in Italia perché carbon tax in Italia? la carbon tax è applicata al mondo una vera lotta è una international carbon tax senza aver paura di mettere una tassa alle importazioni di beni ragazzi un mestiere è andare a applicare l'LCA ok andiamo a fare il listino del contenuto di CO2 che c'è in ogni prodotto che gira per il mondo vedete che l'iPhone costa 10 volte di più e tutti i device correlati mi spiego? e anche auto elettriche su cui però mi fermo altrimenti ciao quindi perché non proporre una carbon tax internazionale e con il derivato creare un fondo che a questo punto possa garantire investimenti importanti pesanti oggi non domani oggi non domani su tutto il sistema che volete voi efficienza energetica rinnovabili innovazione tecnologica e quant'altro perché i costi che venivano prima rappresentati possono essere coperti da quali introiti una vera carbon tax ma non potrà che essere di matrice internazionale se no continuiamo a importare prodotti dalla Cina e dall'India lo sappiamo che sono intrisi di CO2 uso questo termine però siccome costano poco li vogliamo e allora c'è un problema di sostenibilità ambientale ma c'è anche un problema di sostenibilità sociale sì i prodotti CO2 free costano di più amen grazie grazie Fazzoli allora qui abbiamo volevo sentire un attimino Ru scusatemi prima se voleva dire qualcosa e ovviamente poi adesso qua si aprono le domande se avete capito tutto oppure no perché qui diciamo ci siamo mossi in diversi campi e ambiti dalla finanza fino alla decrescita felice fino al tema energetico lo storage eccetera eccetera o Ru che ne dice dell'international carbon tax perché siamo a COP27 adesso e pare impossibile come dire proporre qualsiasi cosa alla Cina e all'India manco Greta credo sarebbe in grado di proporre una cosa del genere anzi in realtà si è ritirata perché ha capito che non si può fare tra l'altro il COP27 è in Egitto quindi in quanto a sostenibilità sociale diciamo non è proprio un paese che brilla per dire un eufemismo no allora per carità su molti temi che ho sentito toccare dal professore ovviamente non mi esprimo insomma tutti interessantissimi sicuramente vada se è una carbon tax a livello internazionale avrebbe un'efficacia molto più forte quindi sicuramente su questo condivido personalmente insomma l'idea magari ecco visto che ha toccato il punto del demand side management e prima io ho sorvolato perché non so anche per motivi di tempo quando mi riferivo alla necessità di avere più risorse di flessibilità quindi che poi dal nostro punto di vista siano disponibili sul mercato poi chiaramente una come insomma ci insegna il professore più soggetti che offrono diciamo meno possibilità anche di speculazioni evidentemente di arbitraggio ci sono quindi anche da questo punto di vista lo auspichiamo però se appunto queste risorse sono molto distribuite c'è il problema di aggregarle e di qualcuno che poi faccia da aggregatore no? e operi sul mercato perché non è pensabile che la signora Maria tutte le mattine si svegli e faccia la sua offerta sul mercato dei servizi di spacciamento inserisca diciamo prezzo quantità evidentemente non è non è pensabile quindi questa è una sfida e precisa e la flessibilità non si ottiene solo con lo store su questo siamo perfettamente d'accordo e allineati ma con un mix di risorse di flessibilità che toccano anche il lato della domanda quindi senz'altro il demand side response on management è una risorsa diciamo sulla quale abbiamo fatto anche progetti pilota dimostrativi al momento diciamo che non come dire non mostrano grandi possibilità e diciamo dal punto di vista meno economico perché chiaramente soprattutto pensando alle industrie i processi industriali sottostanti insomma poi al tema energetico in senso stretto sono già molto ottimizzati quindi chiedere ad una grande industria di modificare il suo profilo di consumo richiede degli investimenti e del tempo per arrivare a quel concetto che quindi non è dietro l'angolo insomma quindi la risorsa la potenzialità c'è dal punto di vista tecnico anche purtroppo ci sono delle barriere dei vincoli economici e regolatori che al momento diciamo non consentono di liberare questa risorsa per cui si parlava correttamente di domanda rigida fondamentalmente quella elettrica in particolare però insomma la strada è tracciata quindi sicuramente il demand side è una risorsa di flessibilità ovviamente noi puntiamo molto anche sul concetto di mobility quindi di veicoli elettrici in grado di fare quello che si chiama il vehicle to grid quindi sostanzialmente alla fine le macchine elettriche qualcuno le definisce batterie su quattro ruote perché di fatto diciamo poi quello sono e quando sono ferme sono connessa alla rete nella stragrande maggioranza del loro tempo di vita tra l'altro insomma costituiscono una risorsa importante insomma di accumulazione costituiranno sempre di più se poi come il trend ci mostra insomma di fatto la mobilità sarà incentrata sarà impergnata insomma di fatto su veicoli elettrici quindi anche riuscire a sfruttare tutta questa capacità di storage gratis da punto di vista ovviamente del sistema elettrico è un'altra risorsa importante da sfruttare quindi questo sicuramente è diciamo insomma sono tutte sottosfide che riportano alla sfida principale di avere più flessibilità perché le rinnovabili da parte del sistema elettrico quindi da altre risorse perché le rinnovabili lo richiedono se vogliamo veramente arrivare alle rinnovabili poi vabbè chiudo veramente il tema del CCUS ma senz'altro in una fase di transizione verso un sistema completamente carbon free anche per garantire quella che si chiama sicurezza dal punto di vista del sistema energetico accettare il mantenimento di alcuni impianti termoelettrici però attraverso appunto tecnologie che consentono di abbatterne in qualche modo poi l'impatto in termini di emissione di CO2 è essa stessa un'altra risorsa che possiamo sfruttare nel periodo transitorio e quindi sicuramente insomma c'è interesse anche da quel punto di vista e la carbon tax può svolgere un ruolo chiave in questo senso per incentivare gli impianti a dotarsi di adeguati sistemi che esistono di abbattimento della CO2 però certo se poi la imponiamo soltanto a livello Europa va da secca insomma come dire l'efficacia poi su sugli obiettivi globali insomma di riduzione dell'emissione di CO2 chiaramente si riduce di molto grazie Allora abbiamo raggiunto diciamo l'ora del nostro racconto io lascerei la parola a voi adesso nel senso che avrei piacere che interveniste bene bene se volete presentarvi anche sì ma io sono il mio Giovannetti pensionato a piacere di partecipare a questo incontro dell'università però non del polidecnico io avrei una domanda molto marginale ma visto che l'ha citato per il dottor Ruh visto che ha citato io sono anche un po' montanaro quindi visto che ha citato le linee ad alta tensione sotterranea e allora volevo così capire appunto quali sono i proi meglio e quali sono i proi conto delle linee nere ad alta tensione e delle linee sotterranee e le prospettive dell'interramento di quelle esistenti perché ovviamente come tutti sanno cioè per esempio soprattutto in ambiente montano le linee ad alta tensione sono molto brutte cioè hanno un impatto sul paesaggio veramente deturpante allora così capisco che sia un argomento molto marginale però visto che lei è qui allora io le faccio questa domanda no per noi non lo è affatto io anche sono un appassionato di montagna così tra l'altro però questo diciamo è incidentale quindi condivido ma lo condivide Terna perché Terna è la prima società che ha adottato in maniera sistematica la valutazione ambientale strategica e ovviamente è molto attenta al tema ambientale insomma basta che si si va a vedere il sito internet www.terna.it nella parte sostenibilità troverà quanto veramente ci impegniamo per far sì che l'impatto delle linee elettriche sia il minor possibile è un impatto paesaggistico però per noi è molto importante quindi sicuramente ci sono opere di mascheramento per esempio ci sono opere di compensazione e poi ci sono opere di interramento quindi sicuramente la transizione soprattutto per alcune interconnessioni e mi riferisco anche alle interconnessioni con l'estero che attraversano ad esempio le Alpi diciamo quindi è proprio il caso che ha citato è diciamo uno dei maggiori diciamo settori di impegno e di investimento di Terna basti citare il Tirrenian Lab il Tirrenian Link scusate che poi diciamo abbiamo associato anche al Tirrenian Lab in termini di ricerca e sviluppo però di fatto il collegamento triterminale in quel caso sottomarino quindi lì siamo obbligati diciamo ad usare il cavo però fa capire quindi lungo migliaia di chilometri fa capire quanto è avanti la tecnologia e noi crediamo molto nella tecnologia HVDC e stiamo lavorando anche sia a livello di studio che di interventi proprio a replacement alla sostituzione di cavi di linee aeree diciamo elettriche aeree tradizionali soprattutto chiaramente quelle più importanti diciamo quelle che hanno la tensione più alta quindi la capacità di trasporto maggiore con impianti interrati HVDC che ovviamente hanno dei contro insomma è inutile adesso che li elenco ma sono abbastanza evidenti insomma anche in termini manutentivi e di costo insomma però hanno appunto anche dei punti a favore e tra l'altro parlando di una sfida del veramente del futuro lontano però insomma la rete del futuro si baserà sempre più su un minor numero di collegamenti ad altissima capacità e interconnessi anche tra di loro quindi adesso senza entrare troppo nel tecnico però una rete in corrente continua è più difficile da gestire diciamo di una rete in corrente alternata e però anche questa è una sfida che dobbiamo affrontare perché appunto il concetto di cavi interrati in corrente continua HVDC significa high voltage direct current quindi significa cavi in corrente continua di fatto insomma è la tecnologia insomma che al momento consente di sfruttare queste capacità di trasporto sarà la base della diciamo possibilità anche di trasportare grandi quantità di energia dai poli di produzione che rimarranno perché anche l'energia rinnovabile per quanto sia distribuita poi soprattutto pensando all'eolico di fatto poi si concentrerà in alcune zone pensiamo all'eolico offshore già esistente ampiamente diffuso nel nord Europa ma che poi arriverà anche da noi insomma per qualche anno ecco lì in quel caso è proprio obbligatorio perché stiamo parlando di impianti in mare a diverse decine di chilometri dalla costa che devono essere collegate diciamo al continente quindi insomma in quel caso l'uso delle tecnologie HVDC è assolutamente obbligatorio grazie grazie prossima domanda io rinuncio alla domanda perché ha risposto Orru perché la mia domanda era relativa appunto alla trasmissione in corrente continua qualcosa ha detto adesso senza eccedere in scientificità insomma grazie alla prossima salve io ho una domanda per il professor Fazioli vabbè io sono Antonio e lavoro nel settore dell'automotive e volevo farle due domande che però si collegano e lei ha chiuso il suo intervento parlando di carbon tax con diciamo tuonando amen che a me diciamo sa un po' di di selezione naturale nel senso che c'è il rischio che la transizione energetica poi venga pagata dalle fasce più deboli della società un esempio secondo me può essere l'istituzione della fascia B a Milano che rischia di lasciare indietro tante persone che hanno veicoli magari perfettamente funzionanti ma non possono più entrare all'interno della società della città scusi quindi la prima domanda è come pensa che i governi debbano fare per evitare o comunque arginare il rischio della tenuta sociale la seconda domanda è sempre in ambito di transizione energetica vorrei chiederle non c'è il rischio che una transizione energetica troppo aggressiva vada a cancellare e sfavorire delle filiere produttive che in Europa sono molto forti come ad esempio quella del settore dell'automotive e dei motori a combustione e ci consegni totalmente a delle filiere che sono in mano ad esempio all'economia cinese come quella delle terre rare e rischi di essere quindi un autogolla perché in realtà poi le emissioni di CO2 saranno contenute solo in Europa ma in realtà è un problema di livello globale grazie posso rispondere? oh certo che si caro Antonio adesso metto il timer mi hai fatto due alzate pallavolistiche veramente straordinarie ti ringrazio veramente tanto in primo luogo sì assolutamente sì in molti manuali che adesso stanno sviluppandosi di transizione energetica transizione ecologica bilibim bilibim ci sono guarda sono tutti così i grafici sostenibilità economica sostenibilità ambientale sostenibilità sociale questi due cerchi si uniscono e dentro c'è il golden state fantastico dove tu hai la sostenibilità economica cioè paghi tutti i fattori produttivi fra cui il capitale a tassi che dico io su a Londra ok la sostenibilità sociale tutti i servizi sono e i beni sono assolutamente abbordabili ok e il top della neutralità ambientale non esiste ti faccio un esempio come tu hai giustamente colto hai già colto tu prendi la sostenibilità nel mondo delle tariffe non sapete tutti cos'è l'area B di Milano? eh allora magari prof lo puoi spiegare no vogliamo parlare qui che viene a Bologna no no lo spiego io perché l'ha citato ovviamente allora ovviamente progressivamente ma no allora l'area B a Milano è un'ulteriore restrizione nella circolazione di automobili in una fascia ancora più stesa per l'area A e così via però il tema qual è? è progressivamente per massimizzare i voti si cerca di additare però devo essere sintetico no di additare la colpa imputare la colpa dell'inquinamento confondendo l'inquinamento GHG ok quindi clima alterante con quello delle polveri sottili delle città che sono due quali completamente diversi ok però si confonde no? si confonde orbene in molte città come Milano Bologna e così via si introducono ulteriori restrizioni a Bologna non si può girare con un'auto che non sia almeno Euro 5 si dice almeno Euro 3 a benzina come diceva Antonio c'è un problema di facce sociali più deboli se io non posso permettermi quelle auto lì cosa succede? ecco perché ha fatto la battuta mica tanto battuta della International Carbon Tax per alimentare un fondo l'unico modo possibile che consenta evidentemente di finanziare di finanziare politiche di redistribuzione sociale dell'opportunità è l'unico modo però non sarebbe finita qui la risposta perché chiaramente adesso ci si lancia tutti nella mobilità elettrica io ho fatto il presidente di un'azienda a Imola la prima e unica azienda in Italia che con licenza Fiat vi ricordate qua Torino Fiat cos'era? io io non altro io giravo a Bologna con la 500 elettrica quando Marchione diceva che in Italia non c'era il know-how lo facevamo a Imola in via Giambologna un'azienda guarda caso adesso fallita io giravo con la 500 elettrica sapete qual è il problema delle auto elettriche? io giravo con la 500 elettrica che tu forma mentis prima di uscire di casa devi dire dove vado oggi? cosa faccio? dunque vado da A a B poi da B a C e poi torno subito a Caswell in qualche posto per caricarla attenzione questa transizione con tutti i pro e contro vedi il mondo batterie tererare eccetera che tu hai già ben colto ben colto perché porco d'un Giuda non si fa mai una seria LCA sulle filiere però sai occhio non vede cuore non duole non vedo il fumo uscire e per me va bene poi vado a vedere i rapporti Unicef sui bambini che tirano fuori le terre rare che un chilo di terre rare vuol dire tonnellate di materiale raccolto dalle miniere ma questo non ce ne frega nulla dei rapporti Unicef giusto? ovviamente purtuttavia andiamo avanti con l'auto elettrica guarda a caso ha una matrice tecnologica importante perché ci dimentichiamo che la concorrenza è un fenomeno raro professore d'economia è molto meglio farsi una telefonata ma fate una domanda ingegnere Uro la concorrenza fra di noi ci telefoniamo ma perché io devo fare una lotta di prezzo con lui là quando dico ascolta facciamo una cosa siccome lui ha bisogno in certi momenti della giornata nei servizi di spacciamento facciamo così teniamo alto il prezzo in un modo oppure stiamo bassi in un altro mercato ad esempio del giorno prima così verremo dispacciati poi quando ci chiede servizi di dispacciamento picchiamo duro funziona così queste pratiche sono illegali ovviamente ci tengo a dirlo che non dovrebbero essere assolutamente fatte tra le aziende tanto che ovviamente c'è un garante che controlla anche queste cose tra gli operatori telefonici come anche tra gli operatori di rete spero tanto che come dire avvengano io fu il secondo assunto all'autorità dell'energia io fu il secondo assunto all'energia no c'è qualcuno che se vuole autoaccusare io ritengo che queste pratiche siano illegali ma che riga la concorrenza la concorrenza è un meccanismo di lotta di prezzo che studia empirici e in realtà sono cose molto più rare la concorrenza è sistemica per sistemi tecnologici come dicevi giustamente tu Antonio cioè in realtà abbiamo blocchi di know-how tecnologico geograficamente definiti che entrano in concorrenza fra di loro ok come tu hai giustamente colto quindi in sintesi il tema della sostenibilità sociale che tu hai giustamente posto Antonio è un problema spesso confliggente con la sostenibilità ambientale e quindi bisogna trovare fondi per poter attenuare l'impatto sociale di scelte di transizione energetica che altrimenti presenterebbero un conto estremamente elevato la tariffa idrica è emblematica se io sono un ambientalista voglio la tariffa idrica molto bassa alta scusami molto alta devo limitare il consumo di acqua però io facevo parte della sazione acqua bene pubblico e l'acqua deve essere gratis allora deve essere gratis o deve essere alto se sono un ambientalista voglio la tariffa idrica alta se sono un socialista uso questo termine senza allocuzione partitica se sono un socialista la vorrei bassa spiego io per permettere di fare altre domande come dire magari proverei a chiudere qui quanti ce ne sono ancora quattro almeno cinque quattro niente io in maniera molto elementare dopo tutto questo discorso io ho percepito una sensazione da genitore e quindi capo di famiglia dove mi arriva la bolletta il cosiddetto trasporto dell'energia ho capito da terna un po' tutto il meccanismo eccetera eccetera ma la mia domanda è quanto c'è di vero nel costo di quella bolletta che mi arriva e quanto è falso il fatto che io in un magazzino dove non ho consumo mi arriva comunque la bolletta con il trasporto di energia ma che cosa mi ha trasportato allora a questo punto mi chiedo la sensazione che diceva il professore quanto c'è di verità e quanto c'è di speculazione dietro a queste bollette che attualmente è il problema che affligge un po' tutta l'Italia anche dal punto di vista politico per trovare i soldi a cercare di venire incontro a quelle che sono le tasche degli italiani che non riusciamo ad arrivare a fine mese grazie voglio una risposta sapere quanto c'è di vero e quanto c'è di speculativo ok comunque diciamo il tema della abbiamo visto che il prezzo del gas come anche il prezzo di altre materie sono ormai completamente legati alla speculazione tanto che il gas si abbassa nel momento in cui c'è bel tempo rispetto sono tutti in mano gli speculatori della borsa comunque lascio rispondere a Terna magari se vuole o RU io dico soltanto che permesso che il peso del componente trasporto è intorno al 5-6% diciamo mediamente di una bolletta mentre se sommiamo anche la componente di distribuzione arriviamo al 15-20% al massimo diciamo ovviamente quel costo serve come dire a remunerare gli investimenti fatti per connettere diciamo la sua utenza a tutta la rete diciamo quindi finché lei è connessa alla rete al di là del fatto che ci passi zero o un kilowattora comunque qualcuno ha sostenuto dei costi operatori di sistema e quei costi ripartiti negli anni con criteri di ammortamento molto rigidi e molto controllati diciamo da varie autorità tra cui la RERA insomma ovviamente anzi in primis la RERA serve per coprire quel tipo di investimento però ovviamente poi quello che pesa ma su questo magari lascio la parola al professore che sicuramente è più competente di me in materia quello che pesa sono gli oneri di sistema nel senso le tasse diciamo e poi vari altri oneri che servono per tutta una serie diciamo di usi più o meno legittimi che poi sono stati inseriti diciamo all'interno di quelle voci tra cui il decommissioning del nucleare per esempio tante altre cose e poi ovviamente il costo del combustibile sono la materia prima quindi della produzione dell'energia quella è la componente diciamo maggiore quindi oserei direi che l'impatto sul consumatore delle attività di trasmissione e distribuzione è marginale insomma comunque la base della bolletta è già altina insomma già non è che proprio la bolletta ti arriva anche se non consumi niente comunque la bolletta costa prego professore guardi le faccio una battuta secca se avessimo ancora Enel e Deni non ci sarebbe stato questo problema sintetico no? Roberto Rappoli una domanda per l'investitore oggi se dovessimo fare il piano di investimento di qui al 2030 come mix energetico quale sarebbe la scelta e in che proporzioni mi manca il soggetto noi chi? se dovessimo fare noi come Stato italiano noi speculatorio ah Stato italiano come Stato italiano allora se dovesse rispondere a lei come pandante la risposta che ho dato al Signore prima io cercherei deglutendo deglutendo di ricreare forme di controllo della filiera ho fatto apposta essere criptico perché la risposta l'ho già data a lui nel senso che se io non intervengo con una capacità di controllo della filiera e quindi in termini controspeculativi ok non posso poi determinare quei benefici per il consumatore finale che Antonio di nuovo sostenibilità sociale vedi notate come si ricollega investire io con grande franchezza se devo rispondere a una domanda così e voglio veramente e voglio veramente andare verso una forma di risposta sistemica sistemica non spot puntuale il giochino la località eccetera una risposta sistemica non può che venire con il potenziamento di tutto ciò che minimizza l'impatto ambientale da filiere produttive di energia a elevato contenuto energetico ok quindi va bene continuiamo a fare i giochini con il fotovoltaico e l'eolico a creare motivi di equilibrio energetico zonale tipo comunità energetiche ma questo è parte di un mix bisogna anche 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 potenziare sicuramente da qua al 2030 non ci piove aspetti di sicurezza energetica ok non fosse altro che per la sostenibilità sociale che minimizzino il loro impatto ambientale ok quindi ad esempio non ho timore a dire il fatto che nella nuova tassonomia europea ci sia anche seppur vabbè in forma transitoria il nucleare il gas naturale ha un motivo perché se vogliamo sviluppare l'idrogeno in modo serio non si potrà mica pensare che un elettorizzatore vada avanti stop and go che funziona di giorno non di notte e quant'altro ok quindi perfetto la prospettiva dell'idrogeno sì è una grande prospettiva perché c'è un contenuto energetico vero importante vero importante sia come vettore che come fonte energetica primaria ok ma in Italia non mi ricordo quale ingegnere negli anni 70 prefigurò uno sviluppo del nucleare orientato a produrre idrogeno cioè la hydrogen economy che proprio in Italia negli anni 70 vide la luce come manifesto si fondava sul nucleare quale nucleare quello di nuova generazione quindi ci vorrebbe forse di nuovo un'enea delle origini fatta di 5.000 ingegneri nucleari ormai l'Italia ha perso questo treno perché solo per pensare di tornare al nucleare dovremmo riavviare nelle università e quant'altro quel know-how che abbiamo perso dopo uno sciagurato referendum per intenderci e poi gestire i fenomeni nimbi perché non dimentichiamoci che quando anche ci fosse il nucleare di nuova generazione che minimizza i rischi eccetera eccetera pur tuttavia nessuno lo vorrebbe nel suo territorio per cui preferiamo importarlo ieri ne abbiamo parlato abbastanza della sindrome vedi l'amen dove sta ecco l'amen grazie buongiorno volevo chiedere una cosa come la liberalizzazione del mercato elettrico ha impattato sia da un punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista ingegneristico pratico puro come la distribuzione che appunto Terna si occupa grazie Rù ha sentito la domanda credo che sia per lei prego io ovviamente intervengo sull'aspetto più operativo appunto ingegneristico nel senso che dal 2004 tra l'altro anno in cui ho cominciato diciamo 2005 a lavorare proprio per l'allora GRTN il professore si ricorderà si ha lavorato con Bersani che inizialmente appunto era stato realizzato un sistema che prevedeva un operatore indipendente e un gestore della rete separati poi c'è stata l'unificazione qualche anno dopo quindi il mercato nasce in quegli anni in ormai insomma quasi 20 anni in realtà di operatività mentre prima appunto c'era una gestione verticale centralizzata quindi dal punto di vista operativo certamente posso dire che l'esistenza di vari poi segmenti che si sono aggiunti successivamente insomma la MGP il mercato infragegionaliero il mercato il mercato della capacità e così via quindi la necessità a partire da insomma dalle direttive europee di liberalizzare il settore dell'energia e quindi di introdurre mercati ha reso certamente più complesso diciamo la gestione su questo non c'è dubbio dal punto di vista dell'operatività è richiesto un continuo scambio di dati delle piattaforme che consentono agli operatori di fare le offerte appunto su vari orizzonti temporali e poi tutto un processo complesso che richiede comunque tempo risorse energie insomma energie umane insomma dal punto di vista del lavoro che è chiaramente hanno aumentato la complessità del sistema e quindi anche da un certo punto di vista le possibilità chiaramente di fare poi speculazioni sopra questi diciamo meccanismi poi se tutto questo ha portato un beneficio alla fine complessivamente per il sistema rispetto invece ad un mercato verticalmente integrato dove c'è un unico operatore che sostanzialmente fa e decide e che però evidentemente anche lui ha necessità di un controllo perché altrimenti potrebbe il rischio ovviamente di avere dei costi che esplodono insomma perché chiaramente è operatore unico monopolio insomma possibilità di diciamo incrementare a dismisura i costi questo lo lascio alle valutazioni degli esperti economisti dal mio punto di vista alla fine in ultima analisi credo che sia convenuto per il sistema comunque ripeto dal punto di vista dell'operation certamente la gestione di mercati complessi diciamo richiede molta attenzione e insomma un continuo una continua necessità anche di aggiornamento cito un ultimo esempio anche dal punto di vista della sicurezza cyber della cyber security quindi la necessità di scambiarci tante informazioni diciamo tra un numero elevato di utenti e informazioni riservate perché sono chiaramente price sensitive quindi possono influenzare poi a loro volta gli altri operatori richiede una grande attenzione agli aspetti della cyber security Eterna per esempio è un punto d'eccellenza su questo noi abbiamo proprio un centro di monitoraggio dedicato soltanto a questo e un ampio gruppo di lavoro che si occupa soltanto dei temi della cyber security vuole dire qualcosa? mi sto mordendo la lingua ah no non lo so insomma intanto abbiamo quasi terminato il nostro tempo chiariamo una cosa no chiariamo una cosa un'altra domanda magari mettiamo insieme poi dopo rispondi a tutte e due dai ciao a tutti io sono molto contento di essere qui e sentire delle persone che si espongono mettendo la faccia e dicendo delle cose che sono vere però purtroppo bisogna venire in una setta universitaria per sentirle cioè tra virgolette ovviamente quindi grazie mille e spero che possa proseguire con le sue parole senza mordersi la lingua io mi autocensuro sempre io ragazzi ho un articolo che non pubblico che si chiama The Dark Side of the Sun che l'ho scritto siamo i miei studenti ok mi piacciono i Pink Floyd per cui ok però non pubblico perché non mi conviene sì sì no ma immagino anche perché l'auto elettrica viene sponsorizzata solo dal punto di vista bello però non è tutto oro ciò che lucica forse può essere utile a a Terna per avere un domani dei pacchi batterie girovaganti pagati da da chi si è comprato la macchina però non non ha tutti sti benefici green che sponsorizzano poi stop cioè nel senso ci sarebbe un la difficoltà appunto è parlare dei pro e dei contro in questo diciamo mi ritrovo anch'io come direttrice di un giornale spesso ovviamente è una sorta di onda no in cui tutto debba essere positivo e tutta questa innovazione no debba essere raccontata soltanto attraverso così tanto che ovviamente non è soltanto greenwashing noi vediamo ormai in tutto il mondo dell'advertising no che è girato no sul green e non si sa bene no poi fino a che punto ci sono delle parole chiave di certi periodi storici questa chiaramente è la parola chiave la parola magica dopodiché è difficile ovviamente con un mercato a questo punto che è arrivato alla consapevolezza no della sostenibilità andare no e vedere l'altro lato no the dark side non ho timore a dire non ho timore a dire che se io voglio pubblicare sulle viste internazionali devo essere nel mainstream green se no non pubblico fine e siccome sono professore universitario la carriera è legata sulle pubblicazioni per cui amen è una nuova ortodossia rispondo però a lei guardi chiariamo una volta per tutte perché io sono sincero i capelli bianchi danno una sorta di libertà poi nel tempo nel senso che c'è questa storia che il monopolio aumenta i costi ma il monopolio pubblico nasce per togliere costi al sistema il monopolio privato ovvio ho domanda rigida e ho controllo della filiera dell'offerta è chiaro che il monopolio privato in un contesto di domanda rigida porta alla massimizzazione dei profitti oltre modo ma qui io penso che non bisogna neanche essere laureati per capirlo giusto? ok ma Enel è stata e anche Eni è stata la risposta uno come Mattei ci ha lasciato la pelle su Eni non dimenticatelo mai Enel fu la risposta sistemica ad un problema sistemico occorre avere energia in modo continuo affidabile e quant'altro io invito a leggere mi scusi ingegnero la relazione di Terna in Parlamento dove Terna denuncia i problemi di peggioramento della qualità del servizio a fronte di un eccesso di impianti di generazione di tipo discontinuo che manca al volano generativo non lo dico mica io lo dice Terna nel suo rapporto in Parlamento ora quando prima c'era un soggetto verticalmente integrato ok il soggetto verticalmente integrato era ciò che consentiva una roba che si chiamava piano energetico nazionale vogliamo andare tutto green perfetto allora fai un piano energetico nazionale dove coinvolgi lì tutte le risorse adegui conseguentemente le tue strutture di trasporto distribuzione stoccaggio e quant'altro e non perdi tempo e risorse in una miriade di cose e suppellettili necessarie per funzionare la totale liberalizzazione guarda quando io ero capo segretaria tecnica 1997 ministero dell'industria decreto Bersani mi ricordo che gli ingegneri sia dei soggetti coinvolti ma anche del politecnico faccio una battuta diventavano punk quando si parlava di de-verticalizzazione e creazione di mercati poi sai caro mio necessariamente dopo un po' ormai c'è e ormai c'è e ognuno si posiziona ok perché purtroppo ci sono delle scelte che tendono a diventare unidirezionali ok ma non dimentichiamoci che soggetti che hanno consentito la pianificazione hanno oggettivamente abbattuto i costi di transazione perché i costi di transazione sono quelli che denunciava l'ingegnero Ropo Canzi le banche dati 50.000 banche dati ok soggetti che si specializzano in vari settori e così via l'intermediazione costa grazie io direi un'ultima domanda perché poi abbiamo fatto l'ora e mezza tra l'altro grazie di essere qui c'è Reco Giovannini altri autorevolissimi personaggi del mondo della transizione energetica e voi siete qua quindi noi siamo molto fieri prego ciao mi chiamo Giuseppe volevo mi chiedevo se nel mondo della finanza comunque degli investimenti venisse presa in considerazione come alternativa a una totale elettrificazione di cui si parlava ieri l'utilizzo di tecnologie già esistenti di cui siamo molto forti anche a livello europeo si parla della combustione quindi motori a combustione interna quindi di sostituire le fonti fossili per esempio con i biofuels oppure si parlava ieri dell'aggiornamento delle pipeline dei metanodotti per il passaggio dell'idrogeno quindi utilizzare già tecnologie di cui siamo molto padroni siamo molto avanti però cambiando la fonte io stesso mi sto occupando della metanizzazione della Sardegna ed è chiaro che avendo le concessioni per la metanizzazione in Sardegna non c'è il CH4 cioè pian piano sta intravedendo è chiaro che in questo momento stiamo portando avanti la metanizzazione della Sardegna pensando a delle infrastrutture con già le valvole adattate per l'idrogeno per il blending a idrogeno e qui molto interessante molto interessante perché in primo luogo delle infrastrutture che subito sono una risposta non è banale non dimenticate mai l'economia del frattempo o l'economia della Giorgio Gaber cioè le cose vanno fatte con un'efficacia anche oggi non sempre domani no? ok allora tutta la filiera dell'infrastrutturazione per il blending a idrogeno ritengo ma non solo io che sia effettivamente un'ottima soluzione un'ottima soluzione perché consente di dare un'esposta oggi e in prospettiva reti che possono andare sempre più come modello di trasporto dell'idrogeno e sappiamo molto bene che l'idrogeno ha delle potenzialità straordinarie ok quindi questo è sicuramente un sistema straordinariamente promettente questo è un dubbio il tema della piena elettrificazione dell'economia diciamo così no? delle transazioni è un modello suggestivo ti faccio una battuta perché non si vede il fumo uscire ok? però lasciamela questa battuta nel senso sì ok però mi domando che cos'è che alimenta quel flusso di elettrone no? perché altrimenti c'è cos'è che genera scusami quel flusso di elettrone quindi va benissimo l'elettrificazione ma non dimentichiamoci mai che i grandi sistemi ICT le smart city richiedono la disponibilità di energia elettrica in modo sicuro continuo affidabile pidi bing pidi bing pidi bing che a oggi a oggi mal si coniuga con una eccessiva eccessiva ho detto generazione di tipo discontinuo bene allora io intanto Ru hai da aggiungere qualcosa altrimenti io farei saluti lapidario su idrogeno non per smontare gli entusiasmi eh intendiamoci assolutamente assolutamente no però c'è un piccolo tema di rendimento diciamo dell'elettronizzazione da mettere a punto perché purtroppo al momento le efficienze insomma i rendimenti complessivi dell'elettronizzazione poi se introduciamo ulteriori processi dopo ancora di più quindi della ritrasformazione poi dell'idrogeno insomma eventualmente integrato come gas verde in di nuovo di energia eh richiedono ancora molta ricerca e sviluppo per cui per noi è una risorsa assolutamente importante per l'accumulazione dell'energia però in un orizzonte che forse va un po' oltre il 2030 perché ripeto al momento ancora non è competitivo insomma ma in termini proprio di rendimento energetico rispetto diciamo ad altri ad altre tecnologie insomma comunque sicuramente lo è per il 2050 ecco bene allora io chiuderei i lavori di oggi ringrazio quindi il dottor Orru Innovation Roadmap and Technology Manager di Terna ringrazio il professor Giorgio Graditi che di fatto è nato via perché aveva un treno che scappava e ovviamente ringrazio il professor Fazzioli che oggi è intervenuto in maniera così generosa vi do appuntamento domani alle 18 è il terzo tavolo sul tema dell'energia parleremo con David Chiaramonti Stefano Corgnati Giovanni De Santi Francesca Verga Roberto Zanino sarà il punto di vista dell'università quindi sono contenta e felice se venite e partecipate anche domani e nel frattempo vi auguro una buona giornata grazie grazie a voi buona giornata grazie